bella bella ragazzi marco drums guida trofei platini siamo su guardiani della galassia e vi dico al capitolo 10 ok continuate proseguire proseguite fin quando trovate questa grotta se non avete ancora fatto questione di abitudine sconfiggimenti nemici con l'abilità occhio del ciclone di star lord che è questa qui schiacciate r1 r3 ed è il cerchio il cerchio occhio del ciclone ok se invece non avete ancora fatto piovono proiettili il mezzogiorno di fuoco è sempre r3 l3 e il triangolo allora il triangolo è mezzogiorno di fuoco il cerchio è ciclone occhio del ciclone di star lord invece l'altro trofeo che a me mancava è mettili in riga stendili tutti dovete schiacciare due volte l2 e fare questo vedete quando è caricato tutto ok quando carica che va blu il posto se non l'avete fatti per farmare questo qui è questa è questa grotta dove sparano un sacco di nemici adesso facciamo un po' insieme allora io vi consiglio di che vi da di curo di farne anche due o tre insieme ma normalmente poi ci sono gli altri che ve li ammazzano quindi è arrivata alla fine l1 cerchio ok 17 potete avviare anche il tracciamento allora quando c'è l1 così aspettate e quando fa boom ok e andiamo con 9 di 15 io non so se voi lo vedete in questo momento ho anche avviato il tracciamento dei trofei e praticamente ho fatto anche un video sul mio canale come si fa a tracciare il trofeo a fare l'avanzamento del tracciamento del trofeo ok allora adesso andiamo avanti ancora un po' io non so se il la registrazione vi farà vedere che prendo il trofeo ma fidatevi che funziona arrivati quasi alla fine cerchio e cerchio boom calamba 18 adesso poi andate a fare l'altro ok boom e non c'era nessuno allora se vi sparano vi ferma la cosa di farlo e se l'ammazzate l'ammazzate allora quando ecco perché non è proprio facilissimo si strunzano anche se vi ammazzano no problema che anzi è meglio perché se non l'avete finito fatevi ammazzare almeno si ricomincia sempre da questo punto e voi potete proseguire tranquillamente col fare il trofeo vabbè diciamo che senza parlare tanto vi saluto solo alla fine del video potrebbe andare peggio? certo! potrebbero arrivare anche i nuova indottrinati dalla chiesa comunque ragazzi un po' per tutti i trofei voi fate come faccio io il consiglio del vostro amico marzo gramps voi fate tutto quello che dovete fare nel gioco ok? giocate divertitevi vedete tutto quello che è e solo e solo alla fine vi concentrate su fare quello che vi manca nooo insomma perché voglio fare sia questione di abitudine quindi l'occhio del ciclone che anche mettili in riga stendili tutti distordirli col colpo caricato il colpo caricato è due volte L2 lo sbloccate con i potenziamenti c'è proprio scritto colpo caricato schiaccia due volte L2 quindi adesso siamo all'ultimo e facciamo il trofeo occhio del ciclone io vi consiglio di arrivare quasi a fine della loro vita perché sennò non ve lo da ok questione di abitudine trofeo preso non puoi mollare e nel tuo contratto ma nooo che mi prego allora il discorso allora il discorso di mettili in riga che siamo già a 10 comunque eh il discorso è che ci sono i cecchini che scassano potrebbe andare peggio? certo! potrebbe andare peggio? non so neanch'io se a questo punto perché allora i primi quattro che ci sono qua sono quelli un po' più spette eh ecco non sempre mi prende il colpo caricato eh ok ok è tutto ufficialmente troppo strano ok stavolta non è colpa niente poca loca eh tu vedi? no incredibile che la promessa ne abbia i reticidati anche uno dei nostri ricordi? eeeh e poi ce l'ammazzano anche loro Kamala una fatica assoluta scusa eh sempre che la chiesa non arrivi prima di te ah 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 ci vuole sempre ci vuole sempre un po' di tempo e pazienza eh per fare i trofei e poi arriverà platino solo quando trovo tutte le cose dice che qui c'è la cura per la promessa assento che la chiesa voglia nasconderla questa è decisamente la strada giusta vero? questa è ironica lingua che capiscono bene sta c'è la strada giusta per il momento, magari, forse, oppure no mi ringrazierebbe a starvi quello lo ha chiesto di te se ne hai perso andiamo avanti, sensazione che ci siamo quasi vi facciamo ammazzare, sono 10, 15 almeno sappiamo di essere sulla strada giusta per il momento, magari, forse, oppure no incredibile che la promessa ne abbia irresistitati anche uno dei nostri, ricordi? questa maledetta nebbia mi farà venire l'orsicaria ora non voglio davvero pensarci andiamo avanti, ho la sensazione che ci siamo quasi ho sistemato le rotelle del soldatino con questa quante volte ti ho salvato le chiave? credevo di essere spazzati che altro ci riserverà a questo posto? e vai, e vai, e vai, e vai ok ragazzi, trofeo preso perfetto e quindi il modo giusto è il modo giusto il modo più veloce è venire in questo punto capitolo 3 vedete l'ambientazione nella grotta potrebbe andare peggio ok? nebbia e fate i trofei mettili in riga piovono proiettili questione di abitudine tutti quelli che dovete fare un po' strani li potete fare tranquillamente in questo punto ok? senza tanto sbattimento e senza tante storie strane ok ragazzi? quindi da Marco Drowns Games channel è tutto un abbraccio un saluto e mi raccomando di seguire il canale per i tutorial per gli aiuti e per i trofei playstation archivment xbox e tutto quello che è del mondo dei videogames e della musica ciao ragazzi ah scusatevi mi raccomando di iscrivervi al canale se arrivate da google e da qualsiasi parte di mettere un mi piace commentare e portare gente sul canale attivate la campanella così sapete tutte le mie live e potete seguirmi anche su facebook twitter instagram tiktok twitch discord e chiaramente youtube e twitter ciao venga per me Grazie a tutti. Grazie a tutti.